Musica Sul sostegno finanziario alle imprese toscane, la regione adesso cambia rotta. E così, Fidi Toscana, nata a metà degli anni 70, cambierà pelle e in parte anche proprietà. Questo lo si capisce in Consiglio regionale, dopo la comunicazione dell'assessore Marras, condivisa dalla maggioranza, lo scenario è adesso più chiaro. La scelta presuppone un nuovo ruolo per sviluppo toscana, oggi società in house e per Sici. Ma cosa accarrà davvero a Fidi Toscana la finanziaria regionale che a quasi 50 anni la regione venderà le quote e ridurrà la sua partecipazione? Il personale sarà salvo e in gran parte passerà proprio a sviluppo toscana, anche se i sindacati si dicono preoccupati e sono anche scesi in piazza nei giorni scorsi. Ci sono delle discriminazioni nella sanità toscana e questo dipende da dove si abita. Il problema è balzato agli occhi di tutti dopo le denunce di alcuni pazienti a cui l'ospedale di Cisanello avrebbe ritardato le visite. Ne parlano i consiglieri in attesa del dibattito in aula e si moltiplicano le prese di posizione. Intanto la Commissione Sanità sta completando il percorso degli stati generali della salute e davvero quello dell'abbattimento delle liste d'attesa resta uno dei punti fondamentali per una riorganizzazione futura. Palazzo del Pegaso a Firenze torna ad essere la vetrina di tante iniziative di arte e cultura, sport e natura, buon cibo e relax, ma anche un catalizzatore di eventi legati ai temi dei diritti e della pace. Nella sanità toscana ci sono davvero cittadini di serie A e cittadini di serie B e quanto conta abitare, risiedere in un territorio dove c'è un ospedale d'eccellenza? Non si è ancora sgonfiata la polemica di questi giorni sui criteri e sulle priorità per le visite in ospedale, in particolare in quello di Cisanello a Pisa. Tutto nasce dai casi segnalati da alcuni livornesi che dicono di essere stati in qualche modo scavalcati da chi risiede a Pisa. La prima reazione è del Presidente della Giunta, Gianni annuncia verifiche e promette eventualmente una marcia in bierro e intanto riunisce un vertice con le direzioni generali delle aziende sanitarie. Nelle asle territoriali chi è residente ha il carattere chiaramente di priorità e di cura, non ci può essere all'interno di un asle una preferenza su quello o quell'altro comune, provincia, territorio, non sarebbe corretto. Quindi ora io verificherò le normative, può darsi, vi siano effettivamente delle normative a cui si è fatto riferimento antecedenti alla riforma delle asle e quindi si rimedierà perché naturalmente bisogna che tutti i cittadini della stessa asle abbiano gli stessi diritti. In questo caso Livorno, Pisa è la stessa asle quindi non c'è, non ci deve essere anche su queste cose il campanilismo della priorità territoriale fra città o province della Toscana che fanno parte della stessa asle. A fare chiarezza ci prova il Presidente della Commissione Sanità e dà questa spiegazione. Si sta parlando delle visite base di primo livello, di alcune visite, non quelle che caratterizzano gli ospedali come ovviamente Cisanello, cioè le visite di secondo livello che non hanno assoluta limitazione per nessuno, sono aperte a tutti, anzi lo dicono i dati sull'attrazione. Cisanello è uno degli ospedali toscani che ha maggiore attrazione, cioè sono tantissime le persone che non solo da altre parti della Toscana ma anche da fuori regione vengono. Lì si tratta di un percorso di abbattimento dei tempi di attesa, ogni ospedale ha come riferimento principale i cittadini residenti nel proprio bacino, quelli universitari e anche gli altri ospedali e su quello devono garantire il rispetto dei tempi. Poi ovviamente hanno liste aperte anche per tutti gli altri cittadini, quindi ogni cittadino dovrebbe avere il punto di riferimento nell'ospedale di residenza perché sono visite base, non da ospedale e università. L'opposizione naturalmente interviene nel dibattito che si genera sia a livello locale, come abbiamo sentito più volte nei nostri telegiornali, sia qui a Firenze. In questi anni l'azienda ospedaliere a Pisana si è comunque parametrata come un'azienda di eccellenza, cioè l'ospedale di Pisa non era l'ospedale del territorio di Pisa, ma un ospedale di eccellenza che avesse come minimo un respiro regionale, così come per alcune altre cose valeva per Careggi e per altre per le scotte di Siena. È evidente che questo tipo di decisione va nella direzione invece di ridurre comunque la prospettiva dell'azienda ospedaliere a Pisana che per noi deve continuare ad essere una prospettiva di grande respiro e quindi Pisa, Cisanello, il Nuovo Santa Chiara, essere comunque un centro di eccellenza e per essere tale evidentemente non può curare o prendersi cura e carico soltanto dei pazienti residenti nel Comune di Pisa. Da questo punto di vista ho presentato questa mattina un'interrogazione chiedendo se quella scelta è condivisa dall'assessore, è stata presa da chi, con quale atto e quando, perché di tutto questo non noi siamo assolutamente all'oscuro. L'obiettivo della riduzione delle liste d'attesa più in generale è quello che anima maggiormente il confronto anche nella fase finale dei stati generali della salute, un percorso che è cominciato un anno fa e che adesso davvero si sta concludendo. Abbiamo visto che questo sistema sanitario regionale che vede gli ospedali di Serie A di Firenze, Pisa e Siena dove si è accentrato tantissimo lavoro, tantissime competenze a livello medico ha spennato letteralmente quelli che sono i piccoli centri ospedalieri dei nostri territori causando chiaramente problematiche veramente importanti per i cittadini che devono fare visite diagnostiche di altro tipo anche per malattie gravi come gli oncologici. L'abbiamo visto sulla stampa in questi giorni però chiaramente basta alzare il telefono e provare a chiedere e a prenotarsi per una visita per capire quanto questo problema sia il problema principale oggi della sanità in Toscana anche in virtù del fatto e delle restrizioni che si sono avute a seguito del Covid che purtroppo ha portato tantissimi malati gravi a programmare e a non avere quella urgenza e quella condizione immediata di cura che invece era necessaria. Le liste d'attesa lunghe comportano due questioni, se si hanno soldi o amici si va alla clinica privata o si supera la coda, se non si ha né soldi né amici si rischia di morire perché un esame avviene troppo ritardo. Per una sanità che costa miliardi di euro c'è bisogno di poter dare delle risposte efficienti, delle risposte immediate, delle risposte urgenti e da questo punto di vista è evidente che si deve organizzare meglio le strutture ospedaliere, si devono fare le scelte sulla base di un principio di competenza e di merito e non di amicizie politiche perché il moltiplicarsi dei primariati, il moltiplicarsi di determinate situazioni è chiaro che fa sì che il sistema non sia efficiente e su questo noi continuiamo a chiedere, lo faremo con forza nelle prossime settimane, una commissione di vigilanza sulle nomine in sanità. Ne sono tutti consapevoli, dall'abbattimento delle liste d'attesa può svilupparsi una sanità più attenta ai cittadini e ai loro bisogni, alle esigenze di cura e prevenzione. Bisogna lavorare anche sul momento della prescrizione della visita perché se no è un mare magnum che non finisce mai ovviamente con il periodo Covid, quindi se noi abbiamo momenti in cui le prestazioni non vengono erogate i cittadini non possono andare a svolgere queste prestazioni e li concentriamo in pochi mesi non ci sarà nessun sistema che le possa garantire però ora c'è da smaltire questa lista ma avviare poi subito, e questo diremo anche nella risoluzione che approveremo in Consiglio regionale un lavoro che punti sia sulla proprietà prescrittiva, su una reingegnerizzazione delle offerte da parte dell'azienda in linea con quella che è la domanda media che su quel territorio si ha. L'argomento principale dell'ultima seduta del Consiglio regionale qui a Palazzo del Pegaso a Firenze è stato certamente, come anticipavamo, quello della trasformazione di Fili Toscana la società nata ormai 50 anni fa per sostenere le nostre imprese. Oggi cambierà radicalmente equilibri e proprietà. Facciamo ordine, la Regione farà un'indagine di mercato per la cessione di quote della società la diminuzione del pacchetto di azioni pubbliche tuttavia prelude alla creazione di un'agenzia dello sviluppo partendo da quella che oggi già si chiama Sviluppo Toscana, adesso società in house e rivedendo il ruolo di Sici, sviluppo imprese centro Italia l'assessore Marras nel suo lungo intervento in aula spiega le ragioni di questa svolta che la maggioranza del Consiglio, ovvero PD e Italia Viva, appoggia con convinzione. è cambiato il quadro normativo, soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112 sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale e allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese e per accompagnarle per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house, ecco perché non andiamo a trasformare FIDI Toscana perché sviluppo Toscana è già in house, esiste già e con l'apporto di una parte del know-how di FIDI Toscana e di Sici può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. I cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza, solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di FIDI Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il Fondo di Garanzie Centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi FIDI del mondo, delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiata, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Le opposizioni tutte criticano il metodo, ma almeno nel centro-destra non mancano parole di sostegno alla linea che adesso vuol seguire la Giunta. In campagna elettorale da una parte il governatore attuale Gianni diceva che avrebbe trasformato FIDI Toscana in house, dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote FIDI Toscana da parte della regione e quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per FIDI Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Anche diversi consiglieri di Fratelli d'Italia parlano di giravolta, di incertezza profonda e insistono, il tempo in questi casi non è affatto neutro. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di FIDI. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di FIDI, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, rossi, rossi ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che se tutto va bene avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di FIDI Toscana che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie e su queste la giunta non è chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in FIDI Toscana per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Tutti gli atti delle opposizioni comunque vengono respinti al voto dalla maggioranza anche quelli di Forza Italia e del gruppo misto. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in consiglio regionale. Il primo è che abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese, abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza, basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in regione toscana per quanto ci riguarda e si aiutano le imprese non quelle sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno i livelli occupazionali troppe volte, FIDI Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depaperando così il patrimonio industriale della regione toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo Paese, cioè entro tre mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di FIDI Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere persi. Io credo che da qui, Massimo, a giugno dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati, altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi, e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani e soprattutto lo facciamo senza una vera e effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate. Noi oggi abbiamo dei doppioni, abbiamo società che non si comprende bene neanche che tipo di senso abbiano e quale mission di fatto oggi abbiano, si certifica che però ci costano e quindi, a nostro avviso, alla luce della lezione che oggi apprendiamo su FIDI Toscana, dove le marce indietro praticamente sono all'ordine del giorno, voi pensate semplicemente all'operazione Toscana Strade, lanciata quasi, come dire, al pari di FIDI Toscana, quello che ci aspettiamo forse è che l'anno prossimo ci vengano a dire che le risorse non ci sono, esattamente come è stato fatto. Critiche severe, infine, dal Movimento 5 Stelle, parla la consiglia Ranoferi. Non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica. e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate alle garanzie di FIDI Toscana. Si è capito come mai la Regione Toscana ha creato due società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di FIDI Toscana è stata veramente risanata. Come mai la Regione Toscana se ne vuole disfare? La maggioranza tuttavia incassa il voto alla propria risoluzione. Ci sono 23 favorevoli, 6 contrari e 2 astenzioni. Ma torniamo al punto di partenza. Qual è il percorso che attende ora FIDI Toscana secondo la maggioranza naturalmente? La Regione Toscana non ha il 51%, è l'azionista di riferimento ma la maggior parte del capitale è nelle banche che per una serie di motivi si sono disinteressati, non hanno aiutato FIDI. Allora che facciamo? Il mercato è cambiato, abbiamo dei mercati con degli importanti operatori e allora che cosa bisogna fare? Creare un pacchetto di maggioranza e cercare di metterla sul mercato. Ma questo non significa che la Regione dovrà uscire fuori perché il 51% è nelle banche. Se le banche non intendono, non sono più interessati, creiamo un pacchetto di maggioranza e cerchiamo, e questo ovviamente facciamo ora andrà avanti la nostra giunta, a vedere chi ci propone un'idea imprenditoriale valida per FIDI Toscana mettendoci anche capitale. Sono molte le iniziative che trovano spazio e visibilità qui nella sede del Consiglio regionale, molte riguardano arte, cultura, sport, natura, ambiente, anche in qualche modo folklore, tradizioni e prodotti tipici delle nostre terre. Ma c'è anche un'occasione, ancora una volta, per riflettere sui temi della libertà e sulla follia della guerra. Come questa Voci di Libertà, un racconto attraverso tante foto degli italo-americani che nella Seconda Guerra Mondiale combatterono contro il nazifascismo. Con la scoppia della guerra, gli italiani all'estero si ritrovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si volle dimostrare il proprio filo-americanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Possiamo ipotizzare che almeno gli italo-americani furono 850.000. Poi furono svariate migliaia anche gli italo-ostradiani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici. Però, come dicevo, non è semplicissimo stabilire un numero esatto. Singolare è la coincidenza di questo evento, programmato da tempo, con i drammatici fatti in Ucraina, fattore evidenziato dal Presidente del Consiglio regionale. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile. Credo che, insomma, ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Lo stesso Mazzeo partecipa anche alle iniziative per l'anniversario della strage del traghetto Moby Prince a Firenze. Da tempo c'è l'Armadio della Memoria, con tante testimonianze di quello che accadde a Livorno il 10 aprile 1991, ma anche a Viareggio, con la strage del treno, e al Giglio, col naufragio della Concordia. Intanto si registra in questa terza primavera della pandemia un proliferare di iniziative di vario genere. L'arte e la pittura sono protagoniste, per esempio, a Palazzo Pretorio di Certaldo. La prima mostra, che anticipa quelle di Giampaolo Talani e Claudio Cionini, è di Luigi Montanarini. Artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 1966 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il comune di Certaldo e Montanarini. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporane. Il Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporane. Ed è sempre stata la sua forza quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante. E il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di livello nazionale e internazionale. In molte altre situazioni il pubblico può gustare i sapori delle nostre terre, come accade a Montespertoli, dove torna di seme in seme il tema scelto stavolta è quello del formaggio. La realizzano questa iniziativa, oltre che il comune, i produttori delle colline toscane che sono riuniti in un'associazione. L'associazione di produttori raccoglie circa una quarantina di aziende divisa tra allevatori, coltivatori e trasformatori che vanno a chiudere la nostra filiera. Noi produciamo tutto quello che fa parte dell'alimentazione e per questo abbiamo anche un disciplinare dove i nostri soci rispettano i vari parametri del regolamento. Quanto vale il turismo enogastronomico? A Montespertoli ancora su noi vale meno di quello che sono le sue potenzialità e quindi dobbiamo stare vicino alle aziende agricole per aiutarle a fargli scoprire queste potenzialità. Questo è il primo di una serie di eventi, questo è organizzato dalla associazione di produttori o linee toscane ma ce ne saranno tanti e vedo un protagonista delle aziende sul territorio. A mio avviso è il punto di crescita di Montespertoli proprio su questo tipo di turismo. Noi ci fermiamo qui, torniamo naturalmente venerdì prossimo 15 aprile, sempre dopo il Tg della Sera di Granducato. Grazie per la visione!